Musica Sabato 8 aprile 2023, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Ray TV. È sceso a 650 il numero delle bare in attesa di sepoltura proprio al cimitero di Palermo. La situazione comincia a sbloccarsi dopo tre anni di emergenza. Iniziano a svuotarsi depositi all'interno del Camposanto dei Rotoli di Palermo. Vediamo come è andata stamattina nel servizio di Luca Licata. Nel giorno che precede la Pasqua al cimitero dei Rotoli di Palermo si guarda con leggero ottimismo. In viale della resurrezione, luogo simbolo dell'emergenza cimiteriale per via della presenza delle tensostrutture, fino a qualche mese fa, piene di bare in attesa di sepoltura, Oggi invece si presentano vuote, saranno ripulite, sanificate per essere poi smantellate definitivamente. Nessuna bara finirà più nei tendoni. È stata la promessa del sindaco Roberto Lagalla. La struttura commissariale messa su dal Ministero è servita a semplificare ed accelerare le procedure autorizzative. Sono stati sostituiti i vertici dell'ufficio cimiteri, ha riferito Roberto Lagalla, titolare dei poteri commissariali. Attualmente le salme in attesa di sepoltura al Camposanto sono oltre 600. Lo scorso agosto erano 1.300 l'auspicio e che si possa uscire definitivamente dall'emergenza in estate. Si pensa al mese di luglio, entro il festino di Santa Rosalia, ha riferito l'assessore Arramo. Non è stato semplice, siamo a sette mesi dall'insediamento, abbiamo messo in campo più misure che alla lunga hanno dato il risultato. Uno sono avere completato l'installazione dei loculi ipogei che erano stati acquistati e non installati. Due abbiamo revocato una serie di tombe per vari motivi, alcuni per scadenza naturale, altre per gestione irregolare. E questo ha consentito alla struttura cimiteriale di trovare dei posti. Abbiamo aperto i campi di inumazione che erano chiusi da cinque anni, abbiamo collaudato il costone roccioso e da più di un mese inumiamo una media di 10 salme al giorno. Quindi se sommiamo tutte queste misure danno il risultato delle 600 e più bare sepolte in questi mesi. Le problematiche comunque restano tante. Prima di tutto nel principale camposanto del capologo mancano i posti, si cercano soluzioni in altri cimiteri della città. Poi c'è la questione forno crematorio guasto da anni. Anche qui la promessa è di riuscire a raggiungere un primo risultato entro il mese di luglio. Forno crematorio siamo venuti in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative, i lavori sono in corso. Anche questo, i primi di luglio speriamo di metterlo in funzione, il vecchio. Mentre anche per il nuovo entro il mese di giugno manderemo in appalto la costruzione e la realizzazione del nuovo forno tempio crematorio. Stiamo lavorando ad ottimizzare gli spazi all'interno dei cimiteri esistenti. Siamo in fase avanzata per un progetto di ampliamento a Santa Maria di Gesù con campi di inumazione loculi fuoriterra. Insieme al Consiglio Comunale ragioneremo su un'ipotesi di nuovo cimitero. Al momento non serve, ma la prospettiva di un nuovo cimitero farebbe guardare al futuro con più ottimismo. Una fuga di gas ha provocato ieri sera in un'abitazione a Tortorici nel Messinese l'esplosione di una bombola afferendo 5 persone. Sono gravi le condizioni di una donna di 65 anni e di un suo parente, un ragazzo di 14 anni, che sono stati trasportati nell'isoccorso all'ospedale Canizzaro di Catania. A rimanere feriti in modo meno grave anche un uomo, il cugino della donna di 15 anni e un'altra congiunta. Per loro ricoverati a Sant'Agata di Militello si sta valutando comunque il trasferimento nell'isoccorso in un altro ospedale. Per quanto riguarda la donna di 65 anni, riportato, fanno sapere stamattina dall'ospedale Canizzaro di Catania, ostioni di secondo e terzo grado, mentre per sempre la donna ha subito ostioni su tutto il corpo, mentre il ragazzo principalmente a braccia, volto e mani. Sono entrambi ricoverati in rianimazione generale all'interno della terapia intensiva in condizioni gravi. Come dicevamo, dunque la prognosi resta riservata. Ad Alcicatena, a ripetuti atti incendiari, un cassonetto dei rifiuti è stato dato alle fiamme nella notte adiacente alla sede dell'Associazione Antiracket Libera Imprese, episodio che restituisce attualità agli episodi intimidatori verificatisi nelle ultime settimane nella cittadina etnè al servizio di Salvo Cutuli. Un cassonetto dell'immondizia data alle fiamme sul retro di questo antico palazzo, in Piazza Santa Lucia, di proprietà del Comune di Cicatena, che ospita la sede della Proloquia dell'Associazione Antiracket Libera Imprese, un'azione di diffusa inciviltà, la piazzetta antistante spreda di continui atti vandalici e del rilascio indiscriminato di sacchietti di spazzatura. Ieri sera qualcuno ha piccato il fuoco, probabile gesto insensato di giovani che durante le ore serari si riuniscono nello slargo. Non si può escludere però la matrice intimidatoria verso la costantazione dell'Associazione Antiracket, che da anni denuncia il malaffare in un territorio ad alta incidenza criminale, che ultimamente ha intrapreso una vera e propria campagna di aggressione a scopo estorsivo alle attività commerciali del territorio, lasciando bottiglie incendiari innanzi negozi e imprese. Denuncia vice segretario regionale di Libera Imprese, Salvatore Strano, che quotidianamente raccoglie richieste di aiuto da parte di imprenditori taglieggiati o finiti nella morsa degli struzzini impotenti di fronte a raid bandideschi di chiara matrice mafiosa pianificati con metodo. Non solo a Cicatena, ma il fenomeno preoccupa e allarme anche i negozianti della vicina Cileale, che subisce un atto di intimidazione e spesso non denuncia, lasciando campo libero alla criminalità che agisce nella consapevolezza dell'impunità. Gli addetti a servizio di igiene ambientale stamani hanno ripulito arresti fumanti del cassonetto incendiato, rimangono le tracce nell'edificio storico di proprietà pubblica, nell'indifferenza dell'amministrazione informata da responsabile dell'ufficio di quanto accaduto, è rimasta silente. Noi vogliamo escludere la storia dell'atto intimidatorio anche perché se volevano potevano fare anche altro, però è un atto di troppa ineducazione, anzi forse maleducazione perché purtroppo abbiamo capito che negli ultimi periodi la Cicatena è un po' troppo 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 aperta a determinati atti intimidatori e problemi di vario genere. Io stamattina quando i ragazzi del servizio civile che sono qua presso la nostra sede mi hanno chiamato, ho sentito un colpo al cuore perché pensavo che anche l'associazione anti-racket sarebbe stata colpita da queste cose. Però poi una volta che vedo abbiamo visto che hanno creato un danno non indifferente a uno stabile storico del comune di Cicatena, tant'è che io ho già messo a conoscenza oltre le forze dell'ordine anche la prima cittadina, la sindaca Fero, perché al più presto dobbiamo incontrarci perché dobbiamo cercare aiuto non so dove affinché la Cicatena venga controllata in una maniera molto ma molto stretta. C'è molta tensione, ci sono stati vari attentati qui nel territorio, lei li ha segnalati altre volte, bottiglie incendiare, gesti intimidatori, insomma è una situazione che preoccupa. Eh sì, preoccupa tanto perché noi abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di imprenditori che hanno trovato la bottiglia incendiare dietro la sericinesca, un atto all'antica, ecco, mi ricordo che ero giovane e praticamente facevano questo atto per andare a chiedere il pizzo. Però con la differenza di una volta oggi che non ti dicono va a te cercare l'amico, vuol dire che l'amico è lui stesso, colui che va a mettere la bottiglia e si fa presente nelle attività commerciali. Fino a oggi non c'è stato nessuno che ha detto io pago il pizzo oppure mi hanno chiesto il pizzo, ma noi dell'associazione, assieme alle forze dell'ordine, siamo sicuri a 100% che lo pagano il pizzo. È stato ritrovato il corpo senza vita di Renato Gianfranco Modica, l'uomo di 72 anni che era scomparso nel lungomare impastato a Terrasini. Il cadavere è stato recuperato dalle squadre di soccorso in zona e che da ieri lo stavano cercando. Del settantenne si erano perse le tracce proprio pomeriggio quando le telecamere a circuito chiuso nella zona lo hanno ripreso mentre parcheggiava la sua auto dirigendosi proprio verso la scogliere. Ancora la parte inferiore del corpo di una donna, il bacino e le gambe, è stata trovata tra i frangiflutti di Marina di Marza, frazione del comune di Ispica, siamo appunto nel Ragusano. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri e secondo quanto apprende l'agge è stato necessario l'intervento nei vigili del fuoco per liberare il corpo incastrato in mezzo a dei blocchi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco la procura ha disposto il sequestro delle parti umane recuperate che sono state trasferite all'obitorio di Pozzallo. potrebbe trattarsi del cadavere di una migrante. L'acquisto del polo di raffinazione Lucoil di Priolo subito dopo Pasqua è prevista l'accessione al gruppo Cipriota Goi Energy ma il governo potrebbe esercitare per motivi anche geopolitici e non solo economici il veto esercitando di fatto il Golden Power, il servizio di Mario Grasso. Pasqua di attesa per le sorti dello stabilimento Lucoil di Priolo è uno tra i più grandi impianti d'Italia nel settore della raffinazione del petrolio in mano ad un'azienda svizzera che però fa riferimento a Lucoil, impresa russa dunque soggetta alle sanzioni imposte dall'Unione Europea e dunque anche dall'Italia, ha avviato mesi fa il percorso di cessione a cui ha risposto la società cipriota Goi Energy, 1,5 miliardi di euro la somma, che consentirà a Goi Energy con sede appunto a Cipro ma con finanziatori israeliani che già operano in Israele ma pare sotto l'ombrello protettivo proprio di un imprenditore di origini russe l'acquisto dell'impianto priolese con l'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali. La procedura di cessione della ex-ERG della gruppo Garrone avrebbe dovuto chiudersi entro marzo ma tutto l'incartamento all'interno del quale peraltro entrano altre società che dovrebbero garantire la materia prima dunque il petrolio e all'esame del comitato tecnico che ha già fornito al governo italiano l'intero incartamento che contiene non solo pregi e difetti dell'acquisto, non solo pregi e difetti dei livelli di occupazione ma anche le valutazioni per così dire geopolitiche. Insomma il governo italiano è chiamato a decidere se fidarsi del sistema di cessione per così come lo stesso è stato istradato con la società cipriota già chiamata a fornire rassicurazioni finanziarie oltre che i suoi livelli di occupazione, la fornitura di prodotti raffinati per il mercato italiano quindi le emissioni dell'impianto ma anche capire se il sistema finanziario che c'è dietro Goi Energy non possa comunque ricondurre a capitali russi nel più classico gioco delle scatole cinesi. La struttura di Priolo che tra indotto e diretti dà da lavoro a circa 10.000 persone è infatti considerata strategica per il nostro paese oltre che essere allocata in un'area territorialmente assai complicata per la presenza anche di interessi trasnazionali, la base nato di Sigonella uno su tutti e dall'altro lato ancora vi sarebbero anche altri gruppi finanziari interessati all'acquisto dello stabilimento priolese. Goi Energy ha già messo le mani avanti affermando che la società o il suo amministratore delegato Boborov non hanno alcun collegamento con la Russia oppure con aziende russe insomma sarebbero tutti capitali israeliani. Questo potrebbe però anche non bastare al governo italiano che potrebbe dunque esercitare il cosiddetto golden power, una sorta di provvedimento speciale che viene attribuita da una norma ben chiara. I sindacati rimangono ovviamente in allerta e se l'UGL per bocca di Tonino Galioto elogge il governo per quanto si inquiffatto con in attesta il ministro per le imprese Made in Italy Adolfo Urso, sottolineando come però sia necessario in caso di cessione acquisita controllare a posteriori che vengano salvaguardati i livelli occupazionali, così investendo su Priolo così come è stato fatto anche per altre aree di crisi, dall'altro lato la CGL avanza maggiori dubbi. Siamo di fronte ad una incertezza del governo nazionale e regionale rispetto alle scelte di politica industriale che coinvolgono il polo petrochimico di Siracusa e con esso l'intera politica industriale di questo territorio. La sensazione ormai acclarata è di trovarci di fronte ad un governo che non ha chiarezza sulle politiche industriali, così come non ha ancora posizionato il nostro paese e il polo petrochimico di Siracusa all'interno delle politiche europee. Parliamo adesso del meteo di Pasqua e Pasquetta, temperature molto al di sotto delle medie stagionali. Pasqua e Pasquetta, le insegne degli acquazzoni che potrebbero manifestarsi più diffusamente si dal tanto pomeriggio di oggi in tutta la Sicilia, persistono le instabili condizioni meteo favorite da un fronte di aree fredda proveniente dal nord Europa. Con temperatura al di sotto della media stagionale, in contrasto con la stagione invernale decisamente anomala. Un ciclo destinato a completarsi subito dopo il lunedì dell'Angelo, giornata tradizionalmente riservata alle scampagnate e alle gite fuori porta, bagnata dall'annunciata pioggia. Il repentino abbassamento delle temperature ha riportato la neve in quota sull'Etna, un'attrazione per i turisti specie stranieri. Le mutate condizioni meteo consentono, caso unico al mondo, di sciaro trascorrere una giornata nei rifugi nevati sui due versanti del vulcano e subito dopo raggiungere le spiagge e concedersi un tuffo in mare, almeno i più audaci. Secondo l'esperto meteo Giuseppe Pittera, la perturbazione climatica avversa pasquale dovrebbe lasciare l'isola entro le prossime 48 ore a favore delle più calde e temperate correnti provenienti dal continente africano, con sole e temperature in risalita, testandosi sulle vede stagionali. Fine settimana meteorologicamente incerto dunque, ma superata la fase vacanziera della Pasquetta, la situazione dovrebbe normalizzarsi su tutti i versanti dell'isola. Diciamo che questo weekend, che appunto sarà quello pasquale che interessa a tutti, purtroppo non si presenterà nelle migliori delle condizioni proprio perché, a dispetto del bel sole che abbiamo stamattina, le giornate di domani e dopodomani si presenteranno alquando instabili perché c'è un fronte perturbato l'ennesimo che sta scendendo da nord verso sud e che andrà a coinvolgerci in particolare appunto tra domani e dopodomani con spiccate condizioni di instabilità e con possibilità di improvviso acquazzone o temporale soprattutto tra le ore centrali e il pomeriggio. Ma anche in mattinata su alcune aree come il Messinese avremo occasione per delle piogge. Per il tiepore primaverine quando dobbiamo aspettare? L'ironia della sorte fa sì che subito dopo Pasquetta il tempo andrà a stabilizzarsi e quindi dobbiamo accettare questo risponso e pazienza. Diciamo che dovrebbe finire questa fase pseudo-invernale e torneremo a condizioni più tipiche della stagione primaverile inoltrata. Parliamo adesso della pescheria di Catania che è stata letteralmente presa d'assalto da cittadini e turisti per i pranzi di Pasqua e Pasquetta. Un pranzo pasquale ricco e variegato indipendentemente dagli ingredienti. Quello che va per la maggiore è naturalmente il castrato o l'agnello senza escludere altri preparati sempre a base di carne. Ma nell'affollatissima pescheria di Catania c'è anche chi opta per il pesce fresco e stuzzicante da cucinare in vario modo. Un sito significativa e attrattiva soprattutto per i turisti mentre i catanesi scelgono con cura le prelibatezze da portare a tavola. A Pasqua carne o pesce? Allora a Pasqua la maggior parte se ne vanno tutti a carne. Però non sono tutti che cercano carne, allora si mangiano l'agnello, cose. Diciamo che la vendita c'è. Il pesce l'abbiamo venduto, già abbiamo quasi finito tutto. Qual è il pesce preferito in questo periodo? Il pesce preferito, ma la gente cerca anche un pesce più pregiato, pesce per fare arrosto, calamari, polpi, seppie, tutti questi pesci qua un po' senza spine, queste cose un po' più sbrigative. Poi certo c'è il pesce spada. Comprano più i catanesi o i turisti? Più i catanesi. I catanesi sono a parte che conoscono il nostro pescato locale e ovviamente sanno già vanno a sicuro dove vanno a comprare. I turisti un po' meno, i turisti sono più sulla ristorazione. Qua la pescheria è proprio, anche per quello, il turismo è proprio basato sulla pescheria che ci siamo noi pescatori. E vedi la seppia che ancora si muove, i calamari, il polpo che cammina, tutte queste cose qua. È anche un'attrazione bella, turistica, ad occhio, a vedere, per la gente gli piace, no? È una cosa bella. Le ostiche vanno sempre, ma anche per Pasqua? Sì, le ostiche sono state meno. Anzi, vanno fatte con i turisti. Un ostico è un bicchiere di vino. Cos'è che le chiedono maggiormente per il pranzo di Pasqua? Agnello. Agnello, arrosti, fassomagri, carne per cotolette e carne per aroste. Capretto non si può vendere. Noi non ne vendiamo. Cosa le chiedono? Cosa comprano di più i catanesi e più i turisti? I turisti guardano, non comprano. I catanesi comprono sessiccia, cotolette, fettine per aroste. Sempre l'agnello, per la maggior parte sembra l'agnello. Noi stiamo evitando quelli da latte. Solo agnelloni, quelli già adulti, perché quelli da latte io sono contro. Da cucinare preferibilmente come? Al forno, la classica al forno. Oppure anche aroste, ma aroste di più per la Pasquetta. È sempre l'alimento che va maggiormente, però poi tante altre specialità. Solo per la Pasqua va maggiormente, però ci sono anche altre specialità. Ci sono arosti, fassomagri, polli di pieni, un po' la sassiccia, quella che non manca sicuramente. C'è sempre questa polemica, no? Perché gli agnellini da latte non si dovrebbero vendere. Ma io sono anche d'accordo, secondo me. Perché un agnello di un mese, di 20 giorni, che senso ha? Si può evitare, dai, si può evitare, non c'è bisogno. Al di là dell'essere animalisti? Al di là dell'essere animalisti, sì. Non c'è bisogno di essere animalisti perché sono piccoli, veramente. Non mi piace. Io se posso la evito. E ci ricolleghiamo proprio a queste parole perché un italiano su quattro dice sì all'agnello nel pranzo di Pasqua. Per gli animalisti si tratta di una vera e propria strage di cuccioli. Una tradizione, una strage. Anno dopo anno, a Pasqua, i fronti si contrappongono. Da un lato, chi non rinuncia alla tradizione dell'agnello pasquale a tavola nel giorno della resurrezione, chi invece dall'altro lato rinuncia e parla di una vera e propria strage di cuccioli. Secondo alcune statistiche, a Pasqua l'agnello in tavola è preferito ad altri alimenti da quattro italiani su dieci. Tant'è che proprio nelle festività pasquali crescono anche i prezzi dell'agnello di almeno il 5% su scala nazionale. C'è chi parla di tradizione che va confermata e chi invece di tradizione che non ha più senso. Nel nostro paese si consumano circa 2 milioni di agnello anno dopo anno. Il 30% proviene peraltro dai paesi dell'estera, giunge l'Italia dopo un non lungo ed estenuante viaggio. Si tratta di cuccioli, cuccioli che a 22 giorni, 30 giorni massimo, vengono strappati dalle loro madri e affrontano dei viaggi incredibili, dolorosi, pieni di sofferenze e di patimenti per andare al macello e finire con altrettante sofferenze scannate a tutti gli effetti. Secondo gli animalisti mangiare agnello a Pasqua non è collegato alla religione e tradizione o meglio moda derivante da un fatto semplice. In questa stagione nascono gli agnelli e mentre le femmine vengono tenute per il latte e la riproduzione i maschi sono macellati. In passato si creava così un'offerta abbondante di carne sul mercato per cui anche i più poveri potevano comprare carne a basso prezzo. Nel periodo pasquale c'è tanta di quella richiesta in barba alla compassione e all'evoluzione che dovremmo avere noi umani che si hanno anche avuto le prove che lo stordimento non viene effettuato nei dovuti modi. Quindi questi cuccioli, ripeto cuccioli, patiranno delle sofferenze indicibili per ore fino a che non moriranno e vedranno anche gli altri morire allo stesso modo. Quindi noi ci auguriamo che prima o poi questo simbolo di rinascita non debba più essere collegato a tanta sofferenza e cattiveria da parte dell'umano. Alla Caritas per il pranzo di Pasqua e quello della Pasquetta sono attese 300 persone. Pasqua e lunedì dell'Angelo, i volontari della Caritas Diocesana di Catania saranno impegnati nel supporto ai più fragili come fanno tutto l'anno e anche dunque durante il periodo delle festività pasquali così da mettere al centro della propria esistenza i valori della condivisione e della solidarietà. Domani nell'app center della stazione centrale in piazza Papa Giovanni XXIII e poi ancora il lunedì di Pasquetta sarà servito il pranzo all'interno della struttura un'occasione per scambiare gli auguri anche per consumare oltre al pasto caldo dolci tipici del periodo frutto delle donazioni ricevute. La previsione di Caritas Diocesana di Catania è quella di confezionare 600 pasti per fare banchettare con serenità a Pasqua e Pasquetta circa 300 persone tra italiani e stranieri di cui molti moltissimi giovani e questo lascio da pensare sebbene non manchino soggetti in età avanzata. Ma è l'impegno di una famiglia e ancora di più la Pasqua e la risurrezione va necessariamente condivisa con la famiglia. Le famiglie sono quelle che viviamo tutti i giorni non solo quelle ad origine motivo per cui domenica di Pasqua e anche lunedì dell'Angelo con gioia vivremo la famiglia qui all'Elpe Center con i nostri fratelli e sorelle non solo per condividere un pranzo ma per condividere ancora di più un momento particolare proprio della risurrezione insieme quindi dialogare e affrontare questo passo molto bello che ci tiene ancora di più uniti. Anche perché appunto risurrezione in questo caso può significare ancora più che in altri casi rinascita. Sì è una testimonianza molto bella che ci ha dato il nostro Signore Gesù ma non solo perché ha sconfitto la morte ma rinascere dal nostro cuore ecco purificarlo a fronte di tutte le cattiverie che sono presenti in questo mondo e non c'è cosa più bella che parlarne con i nostri fratelli e le nostre sorelle affinché tutti possiamo far rinascere il nostro cuore. Ecco grazie al contributo di Chidona, grazie al contributo dei volontari domani, domenica, che cosa servirete qui al Elpe Center? Ma allora i volontari, i nostri benefattori sono una risorsa preziosissima e tutto quello che fanno lo fanno proprio dal cuore motivo per cui anche il pranzo nasce proprio da qualcosa di spizioso motivo per cui chiaramente faremo anche del pesce, del tonno quindi cercheremo proprio di inebriare i cuori, elementi proprio con queste prelibatezze quindi una pasta col tonno, chiaramente un tonno che nasce da un sequestro chiaramente quindi il contrasto anche a qualsiasi forma di illegalità e chiaramente vedremo anche di condividere una colomba e tutto il resto un pranzo di famiglia. E poi martedì solito, consueto, trantranna, la cena? Sì, come sempre le attività non si fermeranno mai anche lunedì dell'Angelo ci sarà anche l'unità di strada il martedì comunque continueremo con l'unità di strada i centri di ascolto con tutto quello che necessita nel fabbisogno delle persone non siamo mai soli, nessuno. Andiamo adesso al Boschetto della Playa Un luogo particolarmente amato da catanesi e non solo, che si presenta però in condizioni di abbandono nell'imminenza della Pasquetta il Boschetto della Playa è una meta prescelta per le scampagnate fuori porta e così sarà probabilmente anche per lunedì prossimo tutta l'area però si presenta poco curata con il parco giochi in abbandono e il laghetto stagnante pur se popolato da simpatiche tartarughe oggi nella vigila di Pasqua calma apparente in tutto il sito l'occasione per apprezzare una piacevole temperatura primaverile prima della Santa Pasqua Potrebbe, ovviamente potrebbe essere più curato di così diciamo è un po' più abbandonato che curato Quali sono le maggiori pecchie che hai riscontrato? Il laghetto diciamo che è abbandonato abbandonato a se stesso più che altro magari qualche panca come quella potrebbe essere sistemata bene o male il contesto però diciamo offre i suoi servizi Comunque resta un punto di riferimento per i catanesi soprattutto nelle giornate tipiche dedicate alla scampagnata Sì, 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 questo diciamo è un punto di riferimento alla fine dove non si ha dove andare questa è una buona scelta Oggi in tranquillità ma tornerai anche per la Pasquetta? No, in realtà sono organizzato con amici tanti amici quindi questo non era il luogo giusto Un sabato tranquillo dedicato ai giochi dei bambini ma a Pasquetta qua ci sarà molta più gente Si spera di sì è una bellissima area attrezzata del comune di Catania purtroppo in questo momento è abbandonata penso per motivi amministrativi è un peccato io suggerirei anche di invece di fare un ingresso libero proprio non renderlo privato come dicono tanti ma un'area comunale il comune dovrebbe far pagare una quota simbolica eccetera con quella quota si può tenere l'area pulita e qui pagare degli addetti che si occupano di questo piccolo parco avventura che è meraviglioso Quali sono le pecchie che hai riscontrato più evidenti? Io non vengo a Boschetto della Playa da più di 30 anni quindi mi ricordo come era una volta il Boschetto della Playa quindi per me trovarlo così dopo 35 anni è un'ottima cosa però ovviamente in questo momento è uno stato di abbandono che il comune potrebbe benissimo risolvere perché la gente viene l'affluenza c'è e con un petaggio di ingresso simbolico ripeto, secondo me il comune potrebbe rimetterlo di nuovo a servizio dei cittadini Parliamo sempre di Pasqua e Pasquetta ma ci spostiamo a Palermo dove il sindaco ha emanato una ordinanza che prevede delle limitazioni che saranno in vigore fino al primo maggio L'ordinanza emanata dal sindaco di Palermo valida da domani giorno di Pasqua fino al primo maggio prevede diverse limitazioni prima di tutto sarà assolutamente vietato accendere fuochi all'interno del parco della favorita questo significa in soldoni niente rostute ovvero niente tradizionali barbecue all'aperto consuetudine per i palermitani ma non solo soprattutto i lunedì di Pasquetta l'atto emanato dal primo cittadino prevede inoltre lo stop alle scampagnate nelle pinete di Monte Pellegrino che si trovano nei dintorni del santuario di Santa Rosalia è vietata poi la sosta e la fermata delle auto lungo le strade del parco della favorita e in quelle che conducono a Monte Pellegrino causa di alberi abbattuti e cumuli di ramaglie che possono comportare situazioni di pericolo noi crediamo che la tutela e il rispetto dell'ambiente e dei luoghi che sono destinati a una fruzione naturalistica sportiva, ricreativa di intrattenimento non possano diventare come spesso diventano anche le strade ordinarie per conferimenti di rifiuti fuori orario e fuori luogo diciamo diventino delle pattumiere a cielo aperto secondo quanto previsto dall'ordinanza viene inibito l'accesso in alcune aree verdi di Monte Pellegrino che in questo momento sono interessate da lavori di riforestazione questo perché non sussistono le condizioni di sicurezza si legge nel testo cosa si potrà dunque fare l'accesso in favorita ebbene precisarlo è consentito il pranzo dovrà essere rigorosamente a sacco le persone dovranno però lasciare l'auto all'esterno del parco e proseguire a piedi la polizia municipale è incaricata di vigilare sul rispetto dell'ordinanza in questo momento ci sono lavori di consolidamento di Monte Pellegrino in un quadro di lotta al dissesto idrogeologico che questo comune ha immediatamente recepito e proseguito e non solo ma la favorita noi intendiamo valorizzarla come luogo di fruizione naturalistica e ricreativa per la città non attiveremo subito dopo Pasqua un tavolo per la definizione di linee progettuali riferite proprio alla favorita che deve essere un attrattore naturale della città e non solo come adesso un occasionale luogo di bivacco ovvero ordinariamente un luogo di transito una strada di transito tra Mondello e la città di Palermo c'è la pubblicità tra poco rieccoci in diretta è arrivato il momento delle previsioni meteo le previsioni meteorologiche per la giornata di domani domenica 9 aprile il cielo come vedete cambierà aspetto tornerà ad essere coperto da nubi sia nella porzione orientale che in quella occidentale dell'isola il maltempo comincerà a salire dalla parte più a sud e dunque piovaschi a Siracusa eventi deboli in alcuni casi e sostenuti in altri i mari leggermente mossi le temperature su Catania minima e massima rispettivamente di 11 e 20 gradi la temperatura più alta a Siracusa con 21 la più bassa ad Enna con 4 gradi centigradi è tutto per questa prima edizione grazie per averci seguito e preferito noi vi auguriamo buon proseguimento di pomeriggio grazie per averci seguito